È importante per me concettualizzare le mie opere d'arte, non le concettualizzo ma sicuramente quando mi metto al lavoro è perché c'è un concetto che ho bisogno di portare avanti e che ha mosso un'idea, per come vedo il lavoro indipendentemente dalla modalità con cui ho portato avanti il lavoro. La maggior parte delle volte è materico, è pittura, a volte è video ma è chiaro che si muove su dei concetti, l'idea è un concetto. Non è l'illustrazione di un concetto ma ci sono delle dinamiche proprio inconcettuali che fanno sì che io abbia l'esigenza di fermare quell'immagine e di darle un'esistenza perché mi parla di qualcosa. Poi è chiaro che non è solo l'idea si fa attraverso queste immagini che ha anche una composizione spaziale ma è un tutt'uno non li vedo a pezzi, non penso che l'immagine di un lavoro sia separata dal suo concetto se lo è il rischio è proprio quello dell'illustrazione, c'è questa idea che trovo interessante come lo potrei rappresentare. È un tutt'uno, non è divisibile, sono due facce della stessa medaglia l'immagine è un concetto e un concetto può essere un'immagine.